Magari non vi troverete all'affrontare i previsti o l'ultimo momento che possono mettervi in difficoltà. Insomma, se avete fatto un piano di questa giornata, il piano andrà in porto, uscirà quasi totalmente. Dopodiché, insomma, potete anche ruccedervi qualche piccolo stracco alla regola rispetto alla routine e alla normale vita lavorativa, domestica e sentimentale. E come? Beh, magari facendo qualcosa di diverso che possa avere a che fare proprio con voi stessi, con il vostro tempo libero, con i vostri hobby, con le vostre passioni. Una bella passeggiata all'aria aperta sarebbe l'ideale. Andiamo al segno dello scorpione, per cui amici dello scorpione è una luna intensa, quella che transita ancora nel segno dei pesci. Un'altra giornata che parla di rapporti sentimentali appaganti, molto passionali, perché questo Marte amplifica anche il vostro erotismo, la vostra assenza.